Oggi è il giorno scelto da Marevivo per effettuare una vasta campagna di pulizia delle spiagge, avvalendosi della collaborazione delle capitanerie di porto regionali, degli istituti scolastici, degli studenti, dei giovani volontari dell'associazione e dei molti cittadini virtuosi che hanno deciso di sostenere l'iniziativa. Dalla Sicilia meridionale a quella orientale, centinaia di volontari muniti di guanti e sacchi libereranno una decina di spiagge dai rifiuti che il mare riporta in riva, in particolare dalla plastica, che rimane il materiale non degradabile più frequente e pericoloso. In provincia di Agrigento oggi saranno ripulite le spiagge di Bovo Marina, di Maddalusa e di Raclea Minoa. Siamo consapevoli che, benché l'impegno sarà massiccio e rilevante, tutto ciò non sarà sufficiente ad eliminare il degrado che affligge il mare e le coste di molte località balneari della nostra regione, afferma Fabio Galluzzo, delegato regionale di Marevivo. Ma l'intervento che metteremo in atto è la denuncia e il rammarico di tutti coloro che non vogliono vedere l'ambiente sprofondare in uno stato di vera e propria emergenza, senza far nulla. Strategica l'alleanza costruita tra le istituzioni che si occupano del controllo e della sicurezza del mare, come la Capitaneria di Porto, ma anche le scuole, i giovani e i volontari, riuniti per l'occasione in un'intesa che vuole trasformare l'evento in uno strumento d'esempio e riflessione verso i comportamenti umani scorretti, che nonostante gli allarmi e le denunce continuano ad essere perpetrati. Per l'occasione scenderanno in campo anche tanti volontari che Marevivo ha formato negli ultimi mesi tra le province di Palermo, Messina, Catania ed Agrigento. Nell'immediato non vedremo scomparire la plastica dai nostri mari, non vedremo moltiplicarsi le specie grazie solo all'impegno civico o al coinvolgimento diretto dei molti portatori di interesse, continua Fabio Galluzzo di Marevivo, ma queste iniziative aiutano i giovani a prendere coscienza del problema, li educano a una maggiore educazione e a un rinnovato rispetto e ciò nel tempo restituirà i propri frutti. In concomitanza della giornata ecologica, presso la spiaggia di Eraclea Minua e l'Oasi di Marevivo, l'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale della Sicilia libererà un esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta, riabilitato presso il centro, restituendogli il mare e la libertà. Grazie a tutti!